Lo stabilimento non è chiuso, non è chiuso, perché se voi, io no, ma voi, se volete andare di turno la sera, ognuno fa cosa di fare. Chiudete che mi hanno detto, mi hanno chiuso il cancello, mi hanno chiuso il cancello, mi hanno chiuso il cancello. Siccome non ci stiamo fidando più di nessuno, noi avremmo deciso una cosa, siccome sono venuti a conoscenza come in qualche modo forse gli accendavano loro, che qualora anche scrivessimo tutto qua non sarebbe valido, abbiamo fatto un passo in più, abbiamo chiesto una condizione che loro, ok, è necessario andare dal governo, in questo caso la prefettura, andiamo in prefettura, però nella macchina in cui accompagna questi tipi in prefettura, vogliamo un lavoratore, un lavoratore, il sindaco che rappresenta tutti nella nostra città e noi si va in prefettura. Perché se non si va laggiù, tutto quello che facciamo qui è niente, è tutto quello che città e noi si viene accettata, Antonio Berta, di nuovo morto! Grazie! 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 Alpia! 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 Grazie. Grazie. Grazie.